buongiorno a tutti allora hanno dato i premi al gran galà del calcio stagione 2019 2020 calcio maschile calcio femminile quindi prima di imbufalirmi per la scelta che hanno fatto per il calcio maschile andiamo a illibidinirci come si suol dire con i premi che sono stati date dati alle nostre giocatrici libidine voi sapete che la femmina piace purtroppo sono io non piacere alle femmine ma me la femmina piace se poi gioca calcio mi acchiappa ancora di più quindi ho dato anche i voti estetici che mi picchieranno le ragazze ma ho voluto dare i voti anche estetici alle giocatrici alle nostre giocatrici come viso perché erano lì con la loro giacchettina eccetera quindi non è che erano in costume da bagno magari se le vedi in costume da bagno il voto può essere superiore inferiore in base anche alla fisicata della ragazza ma in baso solo sul viso quindi visivamente come viso eccetera ho voluto dare i voti ma innanzitutto vediamo la squadra delle top 11 femminili poi singolarmente do i voti allora in porta hanno scelto la 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 ora giuliani difesa guagni sembrant boatin e bartoli o bartoli bartoli poi cernoia sabatino attacco tatiana bonetti e cristiana girelli comunque laura giuliani alia guagni linda sembrant lisa boatin elisa bartoli aurora galli manuela giuliano valentina cernoia daniela sabatino tatiana bonetti e cristiana girelli la miglior calciatrice calciatrice è stata la cristiana girelli e adesso il gigione vi dice qual è quella che gli acchiappato di più diciamo che è ma me acchiappa dai tempi mondiali del che hanno fatto due anni fa in francia se non sbaglio ed è la portierona laura giuliani a me la il viso della laura giuliani mi acchiappa c'è poco da fare poi magari è piccolina è quello che vuole però c'è il tipo di viso che io divento matto lentigini occhi azzurri morettina se fosse bionda sarebbe il top o rossa meglio ancora però quando hanno quegli occhioni azzurri e le lentigini io divento matto poi proseguiamo alla guagno dato alla giuliani ho dato 9 come viso alla guagno dato 7 e mezzo alla sembranto dato 7 alla bottino dato 6 purtroppo alla bartoli ho dato 5 e mezzo perché proprio non mi piace mi spiace per la elisa bartoli non mi ricchi però alla galli ho dato un 6 al 7 alla manuela giuliano messa simpatica c'è un sorrisone la giuliano proprio c'è il sorrisone simpatico però 6 e mezzo alla ventina cernoia 7 più alla daniela sabatino 6 più alla tatiana bonetti 7 e alla cristiana girelli 7 ditemi voi che voti dareste alle nostre giocatrici io vi ho dato dato i voti poi fatemi sapere voi esteticamente che voti daresti tecnicamente non mi ci metto io perché se giocassi contro le femmine ci gioco è contro le ragazze e devo dire che giocano di maledetto perché poi sono le ragazzine che ragazzine ci hanno tra i ragazzine e ragazze ecco per intenderci perché qualcuno è piccolina anche se sono rimasto basito perché quando mi hanno detto guarda gigi che c'ha 15 anni c'ha sotto due pere che sono stratosferiche l'altra che ne ha 20 è piatta come la pialla cioè una tavola da surf a più forme però vabbè è carinissima anche lei comunque lasciamo perdere andiamo andiamo al calcio maschile che è quello che ci interessa a noi il calcio maschile e femmine ci interessano per altri motivi il calcio allora miglior allenatore e lì già mi sono girati i testi perché c'era da scegliere tra De Zerbi Gasperini e Zaghi e gliel'hanno dato al Jean-Pierre al Jean-Pierre che sapete benissimo come sentiamo il nome Jean-Pierre a noi interisti ci urta ecco per intenderci comunque Jean-Pierre Gasperini miglior allenatore della stagione 2019-2020 e miglior squadra stagione 2019-2020 l'Atalanta e su questo nulla da dire perché l'Atalanta sta diventando la squadra simpatia della Serie A in generale proprio perché sono quelle squadre medio piccole che fanno bene stanno facendo bene sono lì nelle prime posizioni eccetera eccetera e quindi fa anche piacere che ci siano è bello che non ci sia sempre Inter, Milan, Juve eccetera 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 ogni tanto anche l'Atalanta lì ci sta come aspettiamo il Sassuolo come può aspettiamo il Verona e tante altre squadre purtroppo le sorelle sono sette e spazio per tutti non c'è veniamo al miglior arbitro anche qui a noi interisti ci viene un conato ecco perché la scelta era tra Orsato Rocchi e Calvarese e io francamente mi aspettavo Rocchi e invece il miglior arbitro scelto dall'Aic quindi sono i calciatori che hanno votato lui è Orsato quindi i casi sono due sono tutti i juventini o se no non si capisce perché sinceramente Orsato miglior arbitro ripeto io l'ho sempre considerato un ottimo arbitro anche dopo la cagata che ha fatto con quella famosa Inter Juventus lo considero sempre un miglior arbitro però tra lui e Rocchi preferisco Rocchi parere personale poi c'è lui perché secondo me Orsato è un ottimo arbitro purtroppo quell'errore grave che ha fatto gli ha sputtanato l'ottima carriera che aveva costruito fino fino ad adesso veniamo ai portieri anche qui io non sono d'accordo la scelta era tra Donnarumma Andanovic e Scesni io sinceramente avrei scelto il portiere della Juventus e non Donnarumma perché è vero che Donnarumma ogni tanto tira fuori la paratona che non ti aspetti ma contemporaneamente fa più papere di Andanovic magari fa anche qualche salvataggio in più uno o due salvataggi in più ma fa il doppio delle papori Vandanovic però hanno scelto Donnarumma ci può stare a me spiace che non c'erano portieri come Musso come Silvestri come tanti altri che stanno facendo molto molto bene come Cragno ma in Italia comunque di portieri scarsi non ce ne sono anche il più scarso dei 20 portieri della serie A è un ottimo portiere è un buon portiere anche il più scarso perché siamo a un livello alto di portiere è sempre stato così veniamo ai migliori difensori non sto a farvi l'elenco dei nuovi che c'erano hanno scelto Hernandez, De Vrij, Bonucci e Gosens e direi che sono molto d'accordo sulla scelta dei quattro difensori Bonucci e De Vrij centrali sono un'ottima coppia Teo Hernandez l'anno scorso a Kimi non c'era quindi vince per un'enormità di differenza sul resto proprio per distacco ampio distacco De Vrij e De Vrij Bonucci e Gonzens ha fatto un campionato della Madonna e lo sta facendo anche quest'anno veniamo ai centrocampisti i centrocampisti che hanno scelto tre ce n'erano ne hanno scelti tre Barella e il Papu balla come il Papu il Papu Gomez che ha ringraziato da da Siviglia se non sbaglio mi sembra giochi nel nel Siviglia adesso e Gigione Alberto Luis Alberto che io chiamo Gigione Alberto simpaticamente che è un centrocampista che a me piace molto lui e Milinkovic Savic nella Lazio sono tanta roba segnano soprattutto segnano sono due centrocampisti che se non segna uno segna l'altro segna uno segna l'altro segna uno segna l'altro mentre invece mi sono imbufalito come una iena per gli attaccanti perché se immobile c'è R7 ci stanno ci mancherebbe immobile c'è R7 ma mettere Di Bala di Bala che cazzo mi rappresenta di Bala l'anno scorso cosa ha fatto a parte il gol libidine contro di noi era o sempre in panchina o entrava durante la partita o era infortunato o ce l'aveva con la società che lo spediva in tribù c'è immobile Lukaku c'è R7 questa doveva essere il trio però non si può mettere in figura di mettere Lukaku hanno scelto Di Bala va beh immobile CR7 sono d'accordissimo perché non puoi esimerti e miglior calciatore d'altronde non gli hanno dato il cazzone d'oro bisognava dargli qualcosa no scusate il francesismo e allora gli hanno fatto non ha messo miglior calciatore CR7 immobile segna 36 gol in serie A il miglior giocatore CR7 d'altronde 30 milioni di stipendio capite che capite perché ha messo queste cose qui è un po' come il pallone d'oro che gli danno sempre allo sponsor migliore un po' come il festival di Sanremo quando era già deciso ancora prima che iniziasse come c'era l'elenco dei 20 cantanti che partecipavano a Sanremo c'era già primo secondo e terzo erano già decisi poi quando facevano la libidine del totip che le votazioni erano con il totip tu partecipavi al totip e votavi anche il cantante c'erano cantanti che spendevano 100 milioni di vecchie lire per giocarsi schedine al totip e votarsi autovotarsi c'erano già allora le ditte che compravi i voti ecco come compri follower compravi i voti e tu in base a quanto investivi vincevi il festival di Sanremo ecco e qua è uguale dare il premio di miglior calciatore del 2019 2020 a CR7 quando un Ciro Immobile ti segna 36 gol come Higuain capisci che sponsorizzazioni importanza del giocatore all'interno del movimento perché signori miei avere CR7 nel campionato italiano vuol dire valorizzare di più il campionato italiano e quindi è logico che tu per fare un favore al fatto che lui si è degnato di venire a giocare nel nostro campionato quando poteva andare in Inghilterra che è un campionato grande libidine poteva restare in Spagna a campionato perché io resto dell'idea che il campionato italiano è inferiore non come giocatorio livello ma come in questo momento come si evolve come è la lotta per la zona dopo quello inglese ci siamo noi poi c'è quello spagnolo poi quello tedesco e poi quello quello francese quello inglese per me resta il campionato più bello del mondo c'è poco da fare come è strutturato come è la loro mentalità come per tante cose poi viene il nostro che se lo puoi giocare con quello spagnolo poi c'è quello tedesco perché quello tedesco e quello francese ormai sono sulla sulla stessa lunghezza d'onda vince sempre in Germania il Bayern Monaco che può permettersi anche di perdere partite che tanto poi fa il filottino da quattro vittorie e ti saluta tutti oggi erano in dieci in dieci sono rimasti dopo 12 minuti erano in dieci hanno vinto 4 a 1 lo stesso questo per farvi capire l'enorme potenza del Bayern Monaco che quest'anno signori miei adesso vedremo cosa succederà nella sfida Paris Saint Germain Bayern Monaco perché sai veramente chi vince quella partita lì non dico che è in tasca il campionato del mondo ma siamo lì comunque fatemi sapere se siete d'accordo o meno con la classifica del top 11 del 2019 2020 fatemi sapere i vostri voti sulle ragazze del calcio femminile se siete d'accordo se ho esagerato a dare 9 alla Giuliani se sono stato basso con alcune altre ragazze se le ragazze che giocano a calcio a voi non piacciono non lo so ma chi appano c'è poco da fare a me è una ragazza che gioca calcio mi acchiappa e c'è poco da fare così come una che gioca tennis una che gioca pallavolo vabbè pallavolo è normale sono tutte straniocche però la ragazza sportiva ma non eccessiva non quella che fa fitness che fa bodybuilding che diventa un armadio quella a cui piace la competizione sportiva quindi che sia basket tennis sci nuoto pallavolo calcio eccetera 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 mi acchiappa mi acchiappa proprio perché io essendo uno che ama lo sport ha bisogno di una ragazza che altrettanto ami lo sport una che mi è capitato è di uscire con una ragazza non gli piaceva il calcio lei era amava la lirica a me la lirica fa cagare però praticamente gli ho detto guarda se mi inviti a vedere la tosca o quelle cose lì basta che siamo io e te io sono contento lo stesso adesso mi ha risposto sì ma te non chiedermi di venire a vedere il calcio perché me il calcio fa cagare l'ho mollata a rivederci e grazie perché francamente per me le affinità elettive sono sono basilari io quando vedo il ragazzo che rinuncia a vedere la partita perché alla sua ragazza non piace ma mollata trovatene un'altra il mondo è pieno di femmine quindi non va bene una sotto un'altra tanto visto con chi stai però ormai è tardi oramai come diceva qualcuno è tardi e la cazzata l'ha fatta e se la dovrà assorbire tutta la vita cassi so come sedisa milan detto questo vi saluto vi ringrazio vado a vedere se hanno fatto qualche gara di sci perché francamente a lenzeraide a sto punto potevano lasciarle a casa perché il super g è saltato la discesa libera è saltata spero che abbiano fatto il team event e spero che ieri abbiano fatto lo slalom gigante perché sennò sinceramente potevano lasciarle a casa queste ragazze perché farle andare apposta lenzeraide per poi non gareggiare detto questo vi saluto vi ringrazio ci vediamo alla prossima ciao